La partita di Bruxelles, due giorni dal vertice europeo, ultimi dettagli tra strategia e tattica per portare a casa. Un risultato utile alla causa. Al momento la scelta è quella dell'offensiva, Conte dice no al Messi, il meccanismo salva Stati, rilancia gli Eurobond e se la prende con la Germania per il commercio e con l'Olanda per il fisco. L'obiettivo della spericolata manovra tuttavia sarebbe quello di trovare comunque un buon compromesso. Bruxelles sarebbe pronta a intervenire per fronteggiare la crisi con un pacchetto da 1.500 miliardi, il tanto evocato piano Marshall della von der Leyen e l'Italia non vi può rinunciare. La partita interna infatti si lega a quella europea. La settimana prossima il Parlamento voterà lo scostamento di bilancio per liberare circa 40 miliardi del decreto aprile-maggio. Tra le misure l'aumento dell'indennità a 800 euro a partite IVA, autonomi e professionisti, il bonus figlio fino a 160 euro, il prolungamento degli ammortizzatori sociali e il reddito di emergenza. Il Parlamento dovrebbe essere chiamato anche a dare il via libera alla app Immuni, l'applicazione sul cellulare che traccia i contatti interpersonali degli utenti al fine di contenere i contagi. Mentre in autunno, dopo il rinvio deciso dal Governo, potrebbe esserci un election day per accorpare voto regionale e comunale e referendum sul taglio dei parlamentari.